Il Papa arriva oggi in Kazakistan per un viaggio che ha al centro la partecipazione al congresso dei leader delle religioni mondiali e tradizionali, appuntamento che va avanti dal 2003 ogni tre anni, organizzato dal governo del Kazakistan. Lo scopo è promuovere la pace mondiale, cosa in sé anche buona, ma questa partecipazione di Papa Francesco però suscita qualche domanda e perplessità, perché l'idea che c'è sotto questo tipo di incontri è l'uso della religione come instrumentum regni, come braccio spirituale di un potere globale, perché lo sappiamo che le religioni sono importanti per costruire un consenso e delle motivazioni. Quindi si va alla ricerca di un minimo comune denominatore, di valori condivisi, non curandosi di stabilire poi cosa sia vero, cosa non sia vero e anche in cosa consista la fede. Ecco, questo però non è esattamente lo scopo del cristianesimo e quindi la presenza della Chiesa a un così alto livello suscita probabilmente confusione, soprattutto fra i cattolici.